Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Scooby-Doo, il gioco da tavolo, il board game, gioco della Cmon, in edizione italiana e tradotto e localizzato a cura di Asmod Italia, che io, come sempre, ringrazio di cuore per la copia fornita e per avermi appunto dato la possibilità di recensire questo prodotto, che è veramente divertente, alla portata di tutti, poi considerazioni in fondo al video, ma soprattutto si intavola velocemente ed è uno spettacolo per tutti i fan della serie di Scooby-Doo, io alzo la mano, e ti rimanda veramente all'infanzia roba disumana perché anche le miniature e le pedine che ci sono dentro, come insegna la buona Cmon, sono veramente interessanti. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Scooby-Doo, il gioco da tavolo, in questa edizione qui davanti a cura di Asmod Italia, è un gioco cooperativo, è un gioco dove noi saremo chiamati a guidare la Mystery Machine a bordo, Shaggy, Scooby-Doo, Velma e tutti gli altri che avete visto nella serie televisiva e dovremo girare per la cittadina cercando di intrappolare il mostro, come un qualsiasi episodio di Scooby-Doo appunto della serie televisiva e il gioco è interessante perché è un gioco cooperativo, qui non c'è la versione competitiva e noi dobbiamo collaborare muovendoci sulla mappa per andare a acciuffare e smascherare uno dei tre fantasmi che poi lo sapete fondamentalmente era gente nascosta, gente mascherata, non erano realmente i veri fantasmi ed era anche la cosa più bella secondo me perché c'era il fascino del mistero ma ti dava sempre una spiegazione logica o più o meno Scooby-Doo ed era divertente anche alla fine vedere chi era, magari era il sindaco, magari era l'amico di qualcuno nel gruppo, la guida sull'isola, era uno spettacolo assurdo e qui è riprodotto fedelmente. Abbiamo la mappa con tutte le location che potranno essere visitate e ci possiamo muovere sia a piedi che con la Mystery Machine. La Mystery Machine, il camioncino può portare fino a due persone, ha bisogno di una tannica di benzina ma può muoverli liberamente da una zona all'altra a patto che ovviamente non ci sia il simbolo di uno stop o di un divieto che da lì a lì non ci può andare ma comunque la Mystery Machine può fare il giro a 360 di tutta la mappa. Mentre invece i giocatori si potranno muovere a seconda delle carte che avranno in mano. Le carte in mano al momento che si vanno a pescare se ne pescano una per ogni giocatore e una per il mostro. si vanno a girare, se ne pescano due per i giocatori e una per il mostro. Le due dei giocatori se ne sceglie una, quell'altra si rimette nella pila degli scarti, quando sono tutte pronte si girano. In alto c'è un numero che è l'iniziativa, quindi che va magari da 1 al 100, sotto c'è scritto il tipo di movimento che si farà e magari l'azione speciale se comprensiva, se presente sulla carta. L'iniziativa si va per iniziativa, quindi esagero se il mostro a 1 e scieghi a 2, il mostro a prima di scieghi, oppure se il mostro è l'iniziativa più alta di tutti, si parte ovviamente da quella più bassa e poi dopo si va in su, perché chi ha il valore più basso agisce per primo. Ci si muove sulla mappa, quindi ci si muove di quanto dice la carta, ci si va a muovere di tot caselle, mentre invece il mostro si muove soltanto seguendo la strada indicata sulla carta, quindi magari se c'ha dei piedini blu si muove sulla strada blu, se c'ha dei piedini verdi si muoverà sulla strada verde. Ogni volta che il mostro arriva in contatto, passa, non che ci si deve fermare, passa sulla casella dove è presente uno dei nostri eroi, il nostro eroe per lo spavento deve prendere due carte, e due carte dalla pila di pesca, non di quelle che è in mano, da quelle che bisognerà andare a pescare, e le deve mettere nella pila degli scarti e ogni volta che un giocatore con la sua azione passa in una casella dove c'è il mostro, stessa cosa, due carte dalla sua pila di pescaggio generale di tutto il gruppo, di tutti i giocatori, e le mette negli scarti. Scopo del gioco è quello di riuscire a costruire tot trappole in una zona della mappa dedicata, al momento che verranno costruite queste trappole, sarà catturato il mostro. La partita come si perde? Ogni volta che il mostro sotto mentite spoglie si muove in una nuova zona, mette paura alle persone che ci sono che scappano, e molto probabilmente metterà anche un simbolino mostro su quella zona. Quando quella zona non ha più persone al suo interno, non ha più abitanti, persone comuni, e soprattutto ha tutti quanti i suoi pallini presi da i token mostro, quella zona diventerà infestata. Quando due zone sono infestate e una terza diventa infestata, quindi ha tre zone infestate, la partita è persa. Oppure la partita è anche persa quando si devono andare a pescare carte, perché all'inizio del turno ciascuno ne pesca due e ne sceglie una, come detto poc'anzi. Si vanno a pescare le carte, il mazzo delle carte è vuoto, non è un problema, si va a prendere da quello del recupero, e si rifà il mazzo. Se anche il mazzo del recupero è vuoto, e non tutti riescano a pescare, perché la maggior parte delle carte sono finite nella fila degli scarti, nella terza, la partita è persa. Quindi si perde quando tre posti sono infestati, o se si va a pescare le carte e le carte sono finite. Scopo del gioco è quello di collaborare per farci di levare le infestazioni nei posti, far tornare la gente ad abitare i posti, quindi la cittadina che non diventi deserta, ma soprattutto riuscire a fare tot trappole per prendere, per acciuffare il mostro. In conclusione, Scooby-Doo è un gioco veramente interessante, è un gioco veloce, il regolamento sono tipo 7-8 pagine, di cui due e mezzo di figure, quindi è velocissimo, si spiega veramente bene, scritto bene, tradotto bene, molti esempi, quindi regola, chissà come, c'è l'esempio sotto che ti dice paro paro come applicarla, ed è veramente, veramente interessante, ed è un gioco veloce, fresco, e questo è davvero la portata di tutti. La scatola riporta da 1 a 5 giocatori, c'è anche la variante in solo, per giocare in solo tranquillamente, anche perché è un gioco operativo dai 10 anni in su, secondo me si può abbassare anche di un paio di anni, dagli 8 in su, perché è facile, è veramente facile, sì c'è da spiegare un pochino la regoluccia sulla carta, o la regola speciale del personaggio, però il gioco è veloce, vi dovete muovere e dovete stare attenti a un finire nella casella del mostro, e levare gli infessati nelle zone, non è che ci vuole più di tanto, quindi è un gioco assolutamente alla portata di tutti. Io ringrazio Asmo d'Italia per la copia fornita, grazie come sempre ragazzi, è un piacere e un onore collaborare con voi, se lo volete ordinare, come sempre in tutti i miei video, primo link in descrizione, insomma impressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e lo trovate finito, pallino rosso, finito, non ci sono più scorte in magazzino, oppure proprio non c'è, Scooby Doo non lo trovate, mandate una mail al supporto, a Corrado, il proprietario della Gioco Libreria Semola, e fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui che il gioco sia finito, o proprio non sia presente nel catalogo, farà il possibile, se è reperibile ovviamente, per trovarvelo, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma usate sempre il codice discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7%, se fate una spesa complessiva, giochi da tavolo, pitture, miniature, libri, romanzi, qualsiasi cosa, anche oggetti per la scuola, usate sempre il codice discount, e superata la spesa complessiva di 79 euro, spese postali gratuite, in tutta Europa, quindi lo ordinate, magari abitate anche in Francia, in 48 ore, e vi arriva direttamente in Francia, quindi il servizio è veramente eccellente, il gioco Libreria Semola, è sempre il top, secondo me, anche e soprattutto, come servizio, perché vi ordina roba fuori catalogo, avete visto un gioco che ho recensito, non da 6 anni, magari non si trova, ma da qualche tempo, magari si trova a Tent and Grail, non ce l'ha in lista, magari ce l'ha finito, lui farà il possibile, magari per trovarvelo, quindi il servizio è eccellente, ragazzi, gioco per tutti, e fatemi sapere cosa ne pensate, ciao alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!